Qui il tema non è se farlo dove è previsto o farlo altrove, l'alternativa è o lo si fa dove si è previsto, ci sono voluti 10 anni o non si fa più. Perché cosa pensiamo di ricominciare un ITER che riguarda altri 10 anni di discussioni? Noi vogliamo una soluzione alla sanità padovana subito, non tra 20 anni. Rischiamo di perdere una grande opportunità per Padova e di deludere anni e anni di eccellenza nel campo della sanità. Il consigliere d'opposizione Jacopo Silva interviene sulla questione del nuovo ospedale che rischia di spaccare la minoranza in consiglio comunale. Nei giorni scorsi infatti anche Padova 2020 si era espressa su questo tema portando avanti però la tesi della ristrutturazione dell'attuale polo come sostiene anche il sindaco Bitonci. Dove volete fatelo ma fatelo, questa in sintesi invece è l'opinione di Silva che teme che Padova a differenza delle altre province venete perde i finanziamenti. Questa polemica continua infatti il consigliere rischia di impoverire la città. Chiariamo le cose, cancellare un ITER di 10 anni vuol dire fare un altro percorso di altri 10 anni. Piuttosto ragioniamo sulla possibilità di sistemare quello attuale ma attenzione bene, una roba vecchia di 50 anni la puoi sistemare ma non sarà mai una cosa moderna. Costerà di più e funzionerà peggio. Tuttavia che si ragioni ma che non si tocchi l'investimento che deve arrivare a Padova. Grazie a tutti.